la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé la costituzione è un pezzo di carta la lascio cadere e non si muove perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile bisogna metterci dentro l'impegno lo spirito la volontà di mantenere queste promesse la propria responsabilità per questo una delle offese che si fanno la costituzione è l'indifferenza alla politica è un po' una malattia dei giovani l'indifferentismo la politica è una brutta cosa che a me ne importa della politica quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualche d'uno di voi conoscerà di quei due emigranti due contadini che attraversano l'oceano su un piroscafo traballante uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime che il piroscafo oscillava e allora questo contadino impaurito ad un marinaio chiede ma siamo in pericolo e questo dice se continua questo mare tra mezz'ora il bastimento affonda allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno dice beppe se continua questo mare il bastimento affonda quello dice che me ne importa un nemica mio questo è l'indifferentismo alla politica